Gene Gnocchi, noto comico e commentatore sportivo italiano, è diventato nonno per la prima volta. Lo ha annunciato lo stesso Gnocchi, con un tenero scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha rivelato anche il sesso e il nome del neonato. Eugenio. Il figlio ha infatti scelto di chiamare il sangue del suo sangue proprio come il nonno, che all'anagrafe si chiama Eugenio Ghiozzi. Tantissime le manifestazioni di affetto sotto al post condiviso da Gene Gnocchi, tra cui quelle di moltissimi colleghi VIP. Ad essersi congratulati per questa bella notizia sono stati, tra gli altri, Tommaso Labate, Michele Cucuzza e Marcello Cirillo. Gene Gnocchi è originario di Fidenza, in provincia di Parma, ed è stato sposato una sola volta con Gianna Cassani, dalla quale ha avuto tre figli, Ercole, Silvia, e Marcello. Dopo qualche anno però, la storia d'amore con Gianna Cassani è naufragata, e Gene Gnocchi aveva trovato l'amore in Federica, anche lei originaria di Fidenza, che gli ha dato altre due figlie, Irene e Livia. La famiglia di Gene Gnocchi è tornata di recente alla ribalta grazie alla partecipazione del fratello Charlie, speaker radiofonico, all'ultima edizione del Grande Fratello VIP. In una vecchia intervista del 2012 concessa a Davide Maggio, Charlie Gnocchi aveva dichiarato che con il fratello c'era grande rispetto, ma che i due, per un motivo o un altro, non erano mai riusciti a imbastire un progetto lavorativo congiunto. Gene Gnocchi è ora felice per la nascita del nipote Eugenio, e per aver ricevuto tante manifestazioni di affetto da parte dei suoi colleghi VIP. Anche noi approfittiamo per fare le nostre più sentite felicitazioni a Gene Gnocchi, e dei genitori del piccolo Eugenio.